Covid, la Puglia verso la zona arancione, RT inferiore ad uno ma rischio moderato, spiega l'assessore Lopalco, l'allarme del report della Fondazione Gimbe in una settimana impennata del 30% dei casi, Bari e Foggia, le province con i numeri più preoccupanti. Troppa pressione mediatica e perdita di stimoli anche nella lettura, così Antonio De Marco Reo confesso dell'omicidio dei fidanzati di Lecce, Eleonora Manta e Daniele De Santis chiede il trasferimento presso il carcere di Milano Bollate, la perizia psichiatrica il prossimo 13 marzo. Regione il TAR cambia gli equilibri in consiglio e toglie due seggi al centro-sinistra, accolti i ricorsi dei due esponenti del centrodestra De Palma e Scalera, ma anche quelli del Dem De Santis e del Tarantino Michele Mazzarano e per sapere chi entra e chi esce in maggioranza tocca aspettare luglio. Prima edizione della nostra informazione, buongiorno a tutti voi, dedichiamo alla nostra apertura purtroppo ancora al Covid, la Puglia verso la zona arancione, l'avete sentito nei nostri titoli, a reti inferiore ad uno, ma a rischio moderato, ha spiegato l'assessore Lopalco, l'allarme del report della fondazione Gimbe in una settimana impennata del 30% addirittura dei casi. RT è ancora inferiore a uno, ma ha indicatori di diffusione del contagio da rischio moderato che potrebbe voler dire zona arancione dopo 15 giorni di fascia minima di rischio. Lo racconta così Pierluigi Lopalco, il quadro pugliese, a suonare il campanello d'allarme nelle scorse ore la fondazione Gimbe, il cui report fa segnare in una settimana un aumento dei casi del 30,3%, con un incremento dei positivi ogni 100.000 abitanti, pare a 838 contro la media italiana di 723. Bari e Foggia le province che fanno registrare le risalite più preoccupanti della curva, ma resta sotto controllo la situazione negli ospedali. L'occupazione dei posti letto è al di sotto della soglia critica tanto in area medica quanto nelle terapie intensive. In compenso, secondo lo stesso monitoraggio, la Puglia sarebbe al di sotto della media italiana guardando alla percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, 1,99% su scala regionale, a fronte del 2,44% di media nazionale, una forbice che si allarga per gli over 80. Il resto lo diranno le prossime ore. Antonio De Caro, sindaco di Bari, ipotizza restrizioni in alcuni territori, specie sul versante scuola. Intanto i primi cittadini dell'area metropolitana segnano l'agenda con le proposte condivise in conferenza con Asle e Regione, centri vaccinali in ogni comune, in alternativa grandi hub soltanto in punti strategici per evitare disagi alla popolazione più anziana, troppi spostamenti e lunghe attese coinvolgendo i medici di base. I numeri delle ultime 24 ore sono davvero preoccupanti nella nostra regione. Andiamo a vedere il bollettino quotidiano, 32 addirittura i morti, 1.438 i nuovi casi di positività e in tutto sono stati registrati 10.058 test con un'incidenza di positivi pari al 14,29%, 646 in provincia di Bari, 129 in provincia di Brindisi, 92 nella BAT, 147 a Foggia, 87 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 2 i casi di residenti fuori regione. Sono praticamente 33 e 806 i pazienti attualmente positivi, dunque una situazione preoccupante. Preoccupante anche per quanto riguarda il pronto soccorso, la situazione non è affatto tranquilla. Nell'ultima settimana sono raddoppiate addirittura le persone che vengono trasportate con i mezzi di soccorso e che accusano la sintomatologia tipica del Covid-19. A quanto pare la tregua è terminata, il virus è tornato ad alzare la testa. Forso della situazione sono i pronto soccorso pugliesi dove si registra un'impennata di accessi per casi sospetti Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono più di 400 i pazienti trasportati dai mezzi di soccorso con la tipica sintomatologia. Il dato è confermato anche dall'agenzia che monitora il numero delle persone soccorse nelle strutture sanitarie. Se a febbraio la media era sensibilmente calata, nell'ultima settimana il dato è esattamente raddoppiato. A lanciare l'allarme sull'impennata di contagi, il presidente Anci Puglia, Domenico Vitto, che insieme con altri sindaci ha scritto al prefetto per chiedere ulteriori risorse al fine di intensificare i controlli sul territorio. I primi cittadini sono in difficoltà a far rispettare l'enorme anti-assembramento. Un altro appello rivolto ai medici dell'area metropolitana di Bari arriva dal sindaco, presidente nazionale Anci Antonio De Caro, il quale ha chiesto ai medici di medicina generale o quelli disponibili a lavorare oltre il normale orario quotidiano di iscriversi alla colla aperta dalla ASL per mettersi a disposizione gratuitamente per la campagna vaccinale. Si è in attesa dell'accordo che dovrebbe essere siglato nelle prossime ore dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Presto saranno definite le modalità e la tempistica per questa collaborazione. E con la circolazione delle varianti l'immunità di gregge viene meno e potremmo essere dei portatori di virus anche dopo la seconda dose del vaccino. A lanciare l'allarme è proprio l'epidemiologico l'Opalco. Portatori nonostante la vaccinazione, questo è il rischio in cui si potrebbe incorrere anche se già sottoposti alla seconda dose secondo l'epidemiologo Pierluigi Lopalco. A preoccupare l'assessore regionale pugliese sono le varianti che circolando farebbero venire meno il concetto di immunità di gregge. Ho paura che avremo delle brutte sorprese, dice. È molto probabile che una vaccinazione anche completa in presenza di una variante molto diffusibile può eventualmente instaurare anche in un vaccinato lo stato di portatore. E così invita a non abbassare la guardia anche se è stato completato l'iter vaccinale. Non abbiamo segnali di una mentata gravità della variante inglese, ha proseguito. Ci sono invece segnali abbastanza ottimistici per l'impatto dei vaccini. Un po' tutti i vaccini sembrerebbero ridurre in maniera molto drastica il rischio di malattia grave, di ospedalizzazione e di morte. Addirittura dopo una singola dose di vaccinazione, a prescindere dalle varianti. L'invito finale di Lopalco è quello di vaccinarsi per ridurre al minimo il rischio. Proteggiamo chi si vaccina, lo proteggiamo dall'ospedalizzazione e dal rischio morte, che comunque è già moltissimo, perché più vacciniamo più svuotiamo gli ospedali. Però questi virus continueranno a circolare, ha concluso l'assessore. E a proposito di vaccini, stanno verificando un migliaio di nomi di carabinieri della NASA di Bari che, su delega della Procura, hanno acquisito gli elenchi dei cittadini vaccinati, dei circa 30.000 nomi contenuti nelle liste relative alle vaccinazioni di gennaio acquisite in tutte le strutture sanitarie, dove nel primo mese di campagna vaccinale anti-Covid sono state effettuate le somministrazioni. Sono un migliaio quelli che risultano fuori elenco. E c'è una serie, esiste una serie di controlli su campagna vaccinale e Emiliano incarica il NIRS di assumere tutte le notizie relative alle denunce presentate dall'Onorevole Lacarra. Il Tarpuglia si è riservato di decidere sui ricorsi presentati da alcuni candidati non eletti al Consiglio regionale, in occasione delle ultime elezioni di settembre 2020, che contestano la ripartizione dei seggi in base al premio di maggioranza. Sono tre i ricorsi discussi dinanzi al Tribunale amministrativo, due presentati dai candidati di Forza Italia, Vito De Palma, e della lista alla Puglia domani, Antonio Paolo Scalera, e uno da Domenico De Santis del Partito Democratico. I primi, della coalizione di centrodestra risultata sconfitta, ritengono che le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento non debbano partecipare alla distribuzione dei seggi, con la conseguenza che alla maggioranza non spetterebbero i 29 seggi attribuiti, bensì 27. Il ricorso di De Santis contesta invece la ripartizione dei seggi all'interno della maggioranza, ritenendo che al PD ne spettassero 17 e non i 15 attribuiti. I giudici decideranno nelle prossime ore. Torniamo adesso a parlare dell'omicidio dei fidanzati di Lecce, Leonora Amante e Daniele De Santis. Il reo confesso, Antonio De Marco, ha chiesto il trasferimento al carcere di Milano. Troppo forte la pressione mediatica e soprattutto nella cela di Borgo San Nicola starebbe perdendo ogni stimolo. Antonio De Marco non vuole più rimanere nel carcere di Borgo San Nicola, dove è detenuto dallo scorso 28 settembre dopo l'arresto avvenuto una settimana dopo aver ucciso a coltellata Daniele De Santis e la sua fidanzata Leonora Amante. Alla base della richiesta di De Marco la volontà di allontanarsi dalla città in cui ha compiuto l'atroce duplice omicidio e dove risulterebbe troppo forte la pressione mediatica. Inoltre il carcere milanese gli permetterebbe di seguire degli specifici corsi di formazione e qualificazione consapevole della possibilità di una condanna all'ergastolo. La destinazione indicata infatti è quella della casa di reclusione di Milano Bollate che sin dalla sua apertura nel dicembre 2000 si è caratterizzata come istituto vocazione trattamentale. L'istanza è stata avanzata nelle scorse settimane ed attualmente in attesa di essere valutata presso il Dipartimento Centrale di Roma. De Marco nella sua cella avrebbe perso ogni interesse a qualsiasi stimolo compreso quello della lettura. Intanto come detto dopo l'accoglimento dell'istanza avanzata dagli avvocati Giovanni Belisario e Andrea Starace la Corte d'Assise ha conferito l'incarico a due specialisti per la perizia psichiatrica al fine di verificare se Antonio De Marco fosse capace di intendere di volere nel momento in cui uccise a coltellate Daniele De Santisi e l'onora Manta quel tragico 21 settembre in via Montello. Tornando alla richiesta di trasferimento le operazioni per Italia inizieranno nella giornata di sabato anche se i tempi per una decisione potrebbero dilungarsi per via della situazione pandemica in atto. Se verrà avallata la richiesta previo nulla osta dell'autorità giudiziaria il trasferimento in un altro penitenziario dovrebbe avvenire una volta che terminerà la perizia psichiatrica a cui De Marco sarà sottoposto a partire dal prossimo 13 marzo. Prima di chiudere l'edizione regionale un'ultima ora che ci giunge da Taranto i carabinieri del ROS stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare personale patrimoniale emessa su richiesta della locale procura distrettuale antimafia nei confronti di 16 soggetti ritenuti e appartenenti ad un sodalizio mafioso dedito al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, scambio elettorale politico mafioso, danneggiamento, rapina, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni anche da guerra operante sul versante orientale della provincia di Taranto. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sede del comando provinciale carabinieri di Taranto alle ore 10 e 30 odierne. È tutto per il momento, a tra poco. Apriamo questa edizione provinciale con la pagina politica. L'ufficialità manca dal Viminale ma sono intenzionati a far slittare in autunno il turno delle elezioni comunali. Ipotesi voto ottobre. In Puglia nessun capoluogo di provincia al rinnovo. Manca l'ufficialità ma il tamtam c'è e difficilmente i comuni andranno al voto in primavera. Dal Viminale hanno già sentito in maniera informale i partiti e con buona probabilità se ne dovrà riparlare dopo l'estate. La prima finestra utile potrebbe essere quella tra il 10 e l'11 ottobre ma si vedrà troppe incognite sulla curva epidemiologica per riaprire le urne già a giugno peraltro passando dai riti contingentati o meno della campagna elettorale. E poi la politica con un governo appena insediato e una maggioranza larga ritrovarsi gli uni contro gli altri nei grandi capoluoghi come Torino, Milano, Bologna o Napoli soltanto a citarne alcuni rischia di innescare l'effetto domino anche nella capitale con buona pace dell'azione dell'esecutivo. Insomma salvo colpi di scena. Non se ne farà nulla almeno per ora con l'allungamento dei tempi in compenso. Anche i partiti hanno più tempo per scegliere i candidati. In Puglia la tornata vede fuori dai giochi i capoluoghi di provincia. Tra i centri del Baresi al Rinnovo ci sono Noicattaro guidata dal pentastellato Raimondo Innamorato intenzionato a fare il bis e Ruvo con Pasquale Chieco sindaco uscente ma anche Trigiano e Adelfia. Nel brindisino torna la sfida a Fasano tra Francesco Zaccaria, primo mandato, quota centrosinistra, e il forzista Lello di Bari che la fascia tricolore l'ha già indossata correndo per il centrodestra. In Salento teste di serie saranno Gallipoli e Nardò mentre nel Tarantino riflettori puntati su Grottaglie, Ginosa e Massafra. Scende a gettare la spazzatura e muore pochi istanti dopo. È giallo a Margherita di Savoia dove la procura di Foggia indaga per la scomparsa misteriosa del giovane Vincenzo Lovecchio. È giallo sulla morte del giovane Vincenzo Lovecchio. La procura di Foggia sta indagando sulla morte del ragazzo 24enne di Margherita di Savoia in provincia di Bat, che lo scorso 3 febbraio è stato trovato privo di sensi nel cortile della sua abitazione dove era andato a gettare la spazzatura. Il giovane fu trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Barletta dove morì pochi istanti dopo. Non si dà pace la madre Yunfeng Yu. La sua potrebbe non essere stata una morte per cause naturali, ha affermato la donna. Dall'autopsia risulterebbero una frattura alla caviglia destra, una al braccio sinistro e poi frattura alle costole. Non ci sarebbero altri segni nemmeno al capo. Dettagli che porterebbero a scartare una delle piste possibili, ovvero quella di una caduta volontaria dall'alto. Ipotesi subito esclusa dalla famiglia che continua nella ricerca della verità. Il quadro generale della vicenda fa pensare che qualcuno possa aver investito forse accidentalmente. Mio figlio, afferma angosciata Yu, che lancia un appello alla comunità. Chiunque abbia visto qualcosa quella sera ci aiuti. Ogni informazione è preziosa. Il ragazzo, spiega il legale della sua famiglia, Matteo Perchinunno era affetto dalla sindrome di Asperger, ma era un giovane sereno e tranquillo. Quella sera Vincenzo è stato ritrovato supino con il volto rivolto verso l'alto e le braccia e le gambe allargate. L'avvocato sottolinea infine che Vincenzo è entrato in ospedale vestito ed è uscito nudo e noi non sappiamo che fine abbia fatto l'abbigliamento indossato da ragazzo. Una vicenda avvolta dunque dal mistero, ma anche dalla grande forza di volontà della madre Yu, che lotta disperatamente contro l'omertà e l'indifferenza emersa nella triste vicenda. Nella BAT, dopo l'ultima rapina alle poste di Canosa, dal Cosp si chiede più attenzione alle guardie giurate, anche sui vaccini. Sentiamo. Chiede maggiore sicurezza per le guardie giurate il sindacato FP Cosp settore privato. Il Covid ha incrementato il disagio sociale e la criminalità non si risparmia con le rapine. In ultimo, quella consumatasi in un ufficio postale di Canosa di Puglia, nella quale è rimasto ferito un vigilante. Di qui la richiesta del Cosp al prefetto della BAT, il dottor Maurizio Valiante, di un maggior controllo delle strade e dei luoghi di lavoro per affiancare questi lavoratori. La federazione sindacale del Cosp, il coordinamento sindacale penitenziario, ma si applica sul settore privato delle GPG, guardie particolari giurate, ha acceso l'attenzione sulle ultime rapine sulla strada nel Cerignolano, nel Foggiano, su tutto il percorso da uno. E l'ultima rapina anche avvenuta a Canosa. Gli agenti mostrano veramente preoccupazione perché è un momento di alta tensione. I soldi servono e i criminali dove ci sono i soldi loro corrono. Però di controaltare abbiamo questi uomini e queste donne catapultati in un mondo più forte di loro, senza alcuna formazione militare, perché l'ha bisogno, gli attacchi sono militari di questi criminale. Devo dire che il prefetto di Barletta, dell'Abbatt, ieri, un uomo veramente eccezionale. A lui abbiamo portato suggerimenti, proposti che il signor prefetto potrebbe veramente valutare e raccogliere nell'interesse generale del territorio pugliese e dell'Abbatt. Mastrulli rimarca anche la necessità di vaccini per la vigilanza privata a stretto contatto con i cittadini. Queste donne e questi uomini della GPG, delle guardie particolari giurate, hanno un contatto diretto con il popolo, con il pubblico, vicino alle banche, vicino agli uffici postali, tra la gente e nei centri commerciali. È giusto che vengano paragonate i sensi della 121 e dell'80 come le forze di polizia. A sua eccellenza ho lasciato nelle sue mani un documento che avevo già inoltrato al Ministro della Salute e al Ministro dell'Interno. Ci spostiamo adesso a Foggia. Spiraglio possibile per le lavoratrici degli asili comunali che attendono risposte sulle retribuzioni arretrate sul proprio futuro occupazionale. Si apre un possibile spiraglio grazie all'intervento della Prefettura per la problematica legata agli stipendi arretrati ed il futuro occupazionale delle oltre 50 lavoratrici della Cooperativa Astra di Foggia che assicurano il servizio di assistenza all'infanzia degli asili del Comune di Foggia. Nell'arco di pochi giorni dovrebbero infatti arrivare le prime spettanze arretrate ferme al mese di novembre 2020, mentre per il futuro delle lavoratrici l'amministrazione comunale ha preannunciato l'apertura di un tavolo tecnico con il coinvolgimento del sindacato. Abbiamo aperto come Fisaskat CISL l'avvertenza per queste lavoratrici degli asili comunali del Comune di Foggia impegnati in un importante servizio che è quello dell'assistenza all'infanzia. Ad oggi dopo l'incontro con il Comune abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo avuto delle rassicurazioni sia per il pagamento degli stipendi perché Comune e azienda Cooperativa Astra stanno sistemando la burocrazia che c'è in merito a questa situazione e dovrebbero pagare gli stipendi entro breve e soprattutto abbiamo ottenuto grazie all'intervento della Prefettura la possibile convocazione di un tavolo tecnico con l'amministrazione per risolvere anche l'annosa questione del futuro occupazionale di queste lavoratrici. Che tempi vi siete dati dunque in Prefettura? Entro fine di questa settimana avremmo dovuto, dovremmo avere delle informazioni rispetto al pagamento degli stipendi quindi ad Oras ci aspettiamo delle conferme e nel giro di qualche settimana anche l'attivazione di questo tavolo tecnico con la partecipazione dell'amministrazione comunale, del segretario generale e degli assessorati coinvolti in questa vicenda. Affrontare lo stress da Covid con un supporto attivo per le famiglie si chiama Pensa alla salute, l'iniziativa promossa da Arrestarte di Bari. È un periodo particolarmente difficile soprattutto perché siamo ormai ad un anno dall'inizio di questa pandemia e quindi i tempi sono molto lunghi ed effettivamente iniziamo ad avere delle problematiche molto più difficili da gestire ecco perché i ragazzi hanno delle limitate possibilità d'azione in tutti i sensi sia per l'istruzione perché ovviamente la scuola funziona a singhiozzo nelle relazioni sociali perché insomma sono comunque ancora molto spaventati, molto intimoriti da tutto quello che sta succedendo e quando non lo sono hanno dei comportamenti diciamo non proprio adeguati quindi questo è un segnale di malessere importante di cui dobbiamo tenere conto. Dottoressa, chi soffre di più, gli adolescenti, i ragazzi, i bambini o i genitori? Allora diciamo nell'insofferenza ovviamente la mostrano i ragazzi, i bambini con delle sintomatologie più o meno evidenti, con dei sintomi dei campanelli d'allarme, però è chiaro che il problema risiede negli adulti, sono gli adulti che hanno delle difficoltà notevoli nella gestione del momento e tutte le ricerche che noi possiamo trovare riferite a questo periodo ci riportano sempre al fatto che i bambini, i ragazzi soffrono di meno se in famiglia si respira un clima migliore. Quanto la nostra salute mentale può ancora vivere in questa situazione e riuscire a gestirla? Questa è una bella domanda, nel senso che non è che abbiamo tutte queste ricerche che possano darci dei dati alla mano e dire quanto può reggere, però sicuramente dopo tanti anni di esperienza, anche come psicoterapeuta e come professionista in diversi contesti, diciamo che la differenza la fa l'idea di poter avere una luce in fondo al tunnel, dico sempre, no? La metafora di sapere che questo è un sacrificio che noi stiamo facendo, ma in qualche maniera c'è una luce, quindi è un tunnel da attraversare fino ad arrivare ad un momento più tranquillo. Pugliesi su dieci sono in sovrappeso dall'inizio del Covid, stretti tra lo smart working, le limitazioni imposte da lockdown e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. Pugliesi in sovrappeso dopo il lungo lockdown, è quanto emerge da un'analisi di Col di Retti Puglia condotta nella rete di fattorie e mercati di campagna amica, diffusa in occasione del World Obesity Day. L'associazione di agricoltori evidenzia anche un aumento dei consumi di prodotti salubri e vegan del 25% di frutta e verdura di stagione nei mercati contadini. Ma in aiuto dei consumatori viene la dieta mediterranea. La situazione è peggiora per le persone obese, soprattutto per quelle collocate in smart working e in cassa integrazione, che nel 54% dei casi ha registrato un aumento medio di peso di ben 4 chili, secondo una ricerca della Fondazione Adi, dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. L'idea dei mercati contadini di campagna amica nasce proprio dall'esigenza di ampliare le opportunità di scelta di frutta e ortaggi di stagione che rappresentano la componente base della dieta mediterranea, insieme a pane, pasta, carne, extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari. Ci spostiamo adesso a Trani. Qual è il futuro del noto locale La Lampara? Intanto la struttura è sempre più in uno stato di degrado. Quale futuro per l'ex Lampara? A Trani questo luogo storico della Movida Pugliese è sempre più preda del degrado e degli avvoltoi. Recente il furto con scasso di un intero blocco della cucina del vecchio locale sul quale indagano i carabinieri. Si sarebbe trattato di due giovani che si sono avvalsi per il trasporto di un motocarro. Tagliata la catena dai ladri, oggi a chiudere il principale varco d'accesso alla Lampara vi è un lucchetto. La struttura è stata decretata pericolante. Il locale, come ben noto, è chiuso dal 2018 a distanza di oltre due anni e mezzo. Questo è lo stato in cui versa. Facciamo un passo indietro. Nonostante gli sforzi della cooperativa di lavoratori costituitasi nel 2013 per risollevare la situazione debitoria, i fitti arretrati e i fitti correnti della vecchia società che gestiva la struttura, l'amministrazione comunale, capeggiata nel 2018 dall'attuale sindaco Bottaro, individuò in un bando pubblico la possibilità di un rilancio affidando la lampara alla società più meritevole. Quel bando non se lo aggiudicò nessuno per mancanza di requisiti da parte di tutti i partecipanti. Così si sancì di fatto la morte del noto locale. Da palazzo di città intanto fanno sapere che la lampara resta una priorità e che la struttura dovrebbe essere inserita nel nuovo piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari. Tutto questo prima di procedere ad un affidamento in concessione della proprietà comunale e capire una volta per tutte quale destinazione d'uso per l'ex lampara. Arriva a Bari in una versione ibrida il Salone Internazionale del Restauro, la più importante fiera di settore dedicato al mondo dei beni culturali in fiera dal 26 al 28 maggio. Sarà un'edizione ibrida tra reale e virtuale, quella che dal 26 al 28 maggio si terrà in Fiera del Levante di Bari dell'edizione 2021 del Salone Internazionale del Restauro, il più importante evento al mondo dedicato all'economia, conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali organizzato da Ferrara Fiere in partnership con Asso Restauro. Sarà possibile seguire gli appuntamenti sia live nei padiglioni dedicati che è online su un'apposita piattaforma digitale Restauro in Tour. È la prima volta dal 1991 che il Salone Internazionale del Restauro è organizzato lontano dall'Emilia Romagna. Gli espositori presenteranno i propri prodotti e servizi nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari, relazionandosi sia dal vivo che in modalità digitale con visitatori, professionisti, delegati e buyer provenienti da tutto il mondo. Ogni giorno ho previsti centinaia di incontri business to business, mentre nelle sale e convegni si susseguiranno incontri di livello internazionale, workshop e seminari trasmessi anche in streaming. Nella stessa settimana del Salone avrà luogo la Restoration Week, organizzata da Asso Restauro, un itinerario tra le eccellenze del Restauro italiano con la visita a cantieri e anche in live streaming di Napoli, Pompei, Bari e Matera. Gli edifici, i centri storici li conservano, ce li fanno scoprire, li coccolano e li riportano alla luce così come erano per farceli godere, ma non solo a noi, ma soprattutto agli auspicabili turisti che prima o poi dovranno ritornare nella nostra bellissima nazione per farla ripartire dal punto di vista economico. Bari e in generale la Puglia rappresenta un luogo che è molto vivace in questo momento, proprio nella cultura e nel restauro italiano e crediamo che possa essere veramente una partenza, un luogo da dove si possa ripartire, ricominciare alla fine della pandemia. Speriamoci lasci liberi presto di lavorare perché è proprio un luogo vivace tra molti professionisti, maestranze e produttori che possono dare il loro contributo alla cultura del restauro italiano. E dai beni culturali e alla letteratura, sesta edizione del premio Fondazione Megamark in collaborazione con la Kermesse Dialoghi di Trani, il vincitore il prossimo 17 settembre. Al via la sesta edizione del premio Fondazione Megamark, incontri di dialoghi, il concorso letterario promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con l'Associazione Culturale e la Maria del Porto, organizzatrice dei dialoghi di Trani, Kermesse che ospiterà la premiazione del vincitore il 17 settembre. Al premio rivolto alle case editrici di tutta Italia e alle autori esordienti nel campo della narrativa, è possibile partecipare presentando entro il prossimo 10 maggio le opere prime di narrativa italiana pubblicate tra gennaio 2020 e aprile 2021. La valutazione dei romanzi in gara sarà affidata anche quest'anno a una giuria di esperti tra personalità di rilievo della cultura e dell'informazione. Sarà la critica letteraria Maria Teresa Carbone, presidente della giuria, insieme a Giancarlo Fiume, Pasquale Guaragnella, Oscar Riarussi e Christian Mannu a proclamare il prossimo mese di luglio la cinquina dei romanzi finalisti. A decidere il vincitore assoluto sarà una giuria popolare composta anche quest'anno da 40 lettori i primi che si candideranno nei primi giorni di luglio. Il premio Fondazione Megamer, che incontri di dialoghi, che ha visto la partecipazione di oltre 250 titoli provenienti da tutta Italia nelle passate edizioni, si è affermato come uno dei premi letterari di riferimento del Sud Italia. Emilia, Romagna e Puglia sul podio delle migliori colombe del 2021. Finale a porte chiuse ma in diretta social per la terza edizione di Divina Colomba. L'Emilia Romagna sì, ma anche la Puglia sul podio delle migliori colombe 2021. Finale in diretta social per la terza edizione della competizione Divina Colomba, organizzata da un noto portale di settore che riunisce pasticcerie e gelaterie, nata per valorizzare la produzione artigionale del più classico dei dolci pasquali. Ultimo miglio della gara a porte chiuse nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 e allo stesso tempo per garantire la trasparenza del Comte. Primo gradino del podio per la categoria tradizione ad appannaggio del Ravennate, per la precisione di Sebastiano Caridi di Faenza ma seguito a ruota da Nicola Ferrarini di Brescia e da Giampiero Loddo di Oristano. Sulle sponde dell'Adriatico invece la palma per la creatività che va al Molfettese Salvatore Verdesca con il secondo posto assegnato all'altamurano Antonio Caputo che si guadagna anche il plauso della giuria popolare a giudicare gli evitati una giuria tecnica sulla base del rispetto del disciplinare tecnico ma anche del regolamento del concorso che prevede l'utilizzo esclusivamente di lievito madre e ganditi senza nitride solforosa e proibisce l'uso di conservanti emulsionanti, mono e digliceri di oltre a coloranti e aromi artificiali. Si chiama Angel, il singolo di esordio della giovane artista barese Chris Lacara, ispirazione e melodie rock per un progetto tutto da scoprire. Un glam rock nato da un sogno, una melodia venuta alla luce dopo una sorta di illuminazione onirica. Si chiama My Angel, il singolo di esordio della cantautrice trigianese Chris Lacara. Il brano, che tra ispirazione dal rock melodico di Avril Lavini ed Harry Style, racconta di un angelo a cui lei si rivolge quasi chiedendogli aiuto. Io l'ho scritta in un momento particolare della mia vita, quello della pandemia, quindi che tutti abbiamo vissuto con la pandemia del covid e quindi ho trovato ispirazione proprio da questo avvenimento. e inoltre la canzone parla proprio della desolazione umana, della solitudine profonda, quindi che in tutti noi, anche in questo periodo, e perciò la canzone si conclude con un messaggio di speranza. Il singolo farà parte di un progetto musicale più ampio che l'artista ha già ben in mente, 19 anni e tanta voglia di emergere. Ci sono già tantissime canzoni ancora da registrare, ne ho una ventina, e perciò farà parte proprio di un album musicale, sì. Pubblicherò presto un altro video di una mia canzone, di un'altra canzone, Soduai, e poi spero di poter anche fare quindi un album. 19 anni, sei giovanissima, hai tutto il futuro davanti, cosa vuoi fare da grande? Allora, io vorrei fare questo lavoro, la cantautrice, però ho tantissimi altri sogni, mi piacerebbe anche fare la regista, poter realizzare un film, la videomaker, insomma mi piacerebbe lavorare nel mondo artistico, nel mondo dello spettacolo. Adoro scrivere, presto uscirà anche un mio libro di poesie. E a proposito di talenti di casa nostra, Edi Trani, Donato Grande, ospite ieri nella quarta puntata del 71esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Donato è salito sul palco dell'Ariston per portare in scena lo sport di cui si fa promotore da tempo, il Power Chair, già atleta della SD Oltre Sport, della quale è capitano e socio fondatore. Ieri ha paleggiato con Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, impegnato nella conduzione con Amadeus, Fiorello, Matilda De Angelis e De Lodi. Il campione rosso-nero ha scherzato, condonato e gli ha fatto i complimenti perché secondo Zlatan il giovane tranese sa paleggiare meglio dei compagni di squadra del Milan, che sicuramente saranno contentissimi di questa battuta. È tutto per informazioni, arrivederci. Ben trovati in onda con la nostra consueta Rassegna Stampa Mattotina, andiamo a scoprire insieme le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali. Partiamo come di consueto con la Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina è quella dell'edizione di Bari. Andiamo ad ingrandire per favorire la lettura di chi vi parla, ma anche la vostra, vaccini alle persone fragili. Questo il titolo si naviga ancora a vista. Parliamo ovviamente di emergenza Covid, stenta ancora. A partire il piano di somministrazione, i sindaci coinvolgere medici e pediatri di base. Appuntamenti saltati, zero informazioni, lira dei familiari. E da loco rotondo la denuncia. Effetti collaterali dopo il vaccino AstraZeneca. Marco Sicli firma questo editoriale, questo punto di vista, oggi in Basilica. L'ultimo saluto, ritorniamo indietro. L'ultimo saluto a Cavallari. Andiamo a vedere invece di spalla. Si parla dell'omicidio bovino per la giudiziaria. Il secondo processo d'appello. In aula il test che accusa Colamonico. L'uomo avrebbe raccolto la confidenza mentre era in carcere con l'imputato. Scorriamo la pagina. Una notizia sicuramente curiosa. Un reportage della Gazzetta. Guardate la foto, memorizzatela. Eccolo qua il titolo. Il Covid non frena i patiti del sesso. Con auto e furgoni in sosta in una traversa di strada. Da glomeregli all'interno, clienti e giovani ragazze dell'Est. La foto è stata scattata da Lucaturi alle 18 di ieri. Il Covid ha costretto il mercato del sesso a cielo aperto ad anticipare gli orari. A causa del coprifuoco delle 22. Ma non ha per nulla spaventato gli uomini. Quindi il Covid non frena i patiti del sesso. Oppure potremmo dire che non frena l'amore per i più romantici. Ad Altamura truffa con i fondi agricoli. In tre nei guai per la cronaca. Putignano musicisti e designer. Ecco il progetto Jump a Santeramo. Discarica a Montefreddo. Può partire la bonifica. Taglio basso. L'appello consulta per la mobilità. No, in attesa da mesi. Il comitato dei ciclisti urbani baresi. Con la rabbia e poi il fenomeno con il capoluogo di scarica per gli abusivi dei rifiuti. Bloccato e denunciato un camionista di Bitonto. L'anniversario è un murales ad Altamura per ricordare Domi, il giovane vittima innocente di un attentato. Nella foto il sorriso di Domenico Martimucci con questo ritratto gigante che sarà inaugurato questa sera. Andiamo avanti. Sempre a Gazzetta del Salento. Anche in questo caso andiamo ad ingrandire per andare a vedere le notizie relative alle province di Taranto. Brindisi e Lecce. Covid curva in alto. Si allarga il focolaio all'oncologico di Lecce. C'è il bollettino. Ieri sono stati registrati nel Salento 550 nuovi casi di positività e 10 decessi. Allora salgono a 14 pazienti contagiati. A Taranto è morto un poliziotto di 59 anni per decenni in servizio alla sezione di polizia giudiziaria del Tribunale. Operaglio scomparso, mistero a Fasano. Da circa un mese non si hanno sue notizie ma non per questo si sono perse le speranze di ritrovarlo. Scorriamo la pagina. Antonio Macchia, segretario generale della CGL di Brindisi, firma questo punto di vista. Brindisi è la sfida dello sviluppo sostenibile nelle infrastrutture. Parliamo degli imborsopoli. A Taranto quattro consiglieri finiscono indagati per truffa con la Guardia di Finanza che sequestra beni per oltre 250 mila euro. Provvedimento notificato da De Gennaro, Bitetti, Albani e Casula. Annuncio ai sindacati. Mottola, Albini, avvia la chiusura del cotonificio. E poi scorriamo la pagina. Gellipoli, Baiaverde, ostaggio del randaggio, aggredito, un po' di sta e allarme. Squinsano fugge dopo la condanna per mafia. Scovato e arrestato. Lecce troppe udienze in Tribunale. Rischi e assembramenti in Francavilla. Vigili multa nel Comune per diveto di sosta a Taranto. Tutte le novità dal Comune. Andiamo ancora avanti. Sempre con la gazzetta. Quella di Foggia e di Bat. Foggia, la pandemia, corre 30 mila contagi in un anno. Questi numeri che fanno paura e che fanno pensare. Ieri 147 positivi e 4 decessi. Salgono a 30 mila e 9 i casi. In totale, in Capitanata, i ristoranti pieni a pranzo. Foggia, un'altra notizia, condannata a 6 anni in rameta, il bombarolo del racket. Andiamo a vedere il doppio editoriale con Filippo Santigliano, che parla di cattiva politica e arroganza di quella sentenza, che è una lezione, poi impianti, fantasme, bollette care, micidiale, quella tenaglia di Rino D'Aloiso. Scorriamo ancora la pagina. Taglio medio, i costi della raccolta differenziata, impianti pubblici, sulla carta. Il caso Barletta non è isolato. E poi a Manfredonia, fermo per scamaldigerito. La protesta dei sindacati a Dante, a Piano, Riequilibrio. La sindaca Bruno fa chiarezza sui servizi esterni. Cerignola si torna alle urne, già in movimento la macchina elettorale. Biceglie, giusti nel mondo, celebrazione della giornata al liceo Fermi. Andiamo sul taglio basso. Vincenzo Lovecchio, ucciso da un'autopirata, questa è la domanda sul caso, indaga la procura di Foggia, trasporti, seconda stazione FS di Foggia, ok, progetto tecnico ed economico. Il regime nel 2024 sorgerà a 4 chilometri dall'abitato. Chiudiamo con Andri, ecco la panchina per Michele Balumbo, 4 anni fa, la prematura scomparsa. Cambiamo testata, passiamo al nuovo quotidiano di Puglia, la prima pagina è quella di Brindisi. Vaccini, medici alle strette, perché la Puglia è tra le poche regioni senza l'intesa, con i camici bianchi, bozza pronta, basta l'invio, oggi nuovo vertice, il PD accusa troppe dosi e furbetti, fitto fuori nomi, e vadano dal PM. Sui contagio risale l'indice di positività esposto sul focolaio all'oncologico Fazzi. Ieri in regione registrati 1.438 casi. Il rischio è appunto l'arancione, ma ne sapremo di più nelle prossime ore. Sia i ricorsi di due esclusi, ne abbiamo parlato nel Tg, questo terremoto, il Consiglio regionale, il Tarre rivoluziona l'assise e la maggioranza perde due consiglieri. Insulti sessisti alle donne renziane, coro di solidarietà per Teresa Belanove, il Vice Ministro, si parla anche di Sanremo. Giuliano, creiamo qualità, ora basta col socialitico. E poi Mauro Ringrazia ricorda, Elodie aveva già talento con la sorpresa del pianista Tresco. Vediamo ancora la pagina con la politica. Rossi, falsa partenza per la Giunta, il Movimento 5 Stelle, nessuna condivisione, quindi il Movimento 5 Stelle dice no ad un possibile ingresso nella Giunta e poi l'operazione nel porto di Dogana e Finanza, a Sicilia un carico di scarponcini di marca, ma anche questi erano falsi. Nuovo quotidiano di Taranto, pagina speculare, lo vedete, le notizie sono fondamentalmente le stesse della pagina di Brindisi, allora andiamo a vedere sul taglio basso le notizie specifiche su Taranto con l'indagine della finanza, rimborsopoli, bis al comune, nei guai quattro consiglieri con appunto questa indagine della Guardia di Finanza e questi sequestri per 255 mila euro. Vediamo se c'è altro, sì, Città Vecchia, il buco nero della raccolta differenziata, ne parla Giovanni Cavarda, i cittadini collaborino di più, questo là, per lo nuovo quotidiano di Lecce, anche qui la pagina è praticamente la stessa, pagina speculare, allora anche in questo caso dobbiamo andare sul taglio basso per trovare le notizie riferite alla provincia Ionica, scovato latitante della SCU, si nascondeva in villa, si parla del boss Notaro che era stato condannato a 18 anni, è stato catturato nella defendenza di una villetta nelle campagne di Melendugno, il boss latitante Sergio Notaro, originario di Campi Salentina. Passiamo alla prima pagina del quotidiano nazionale, la Repubblica, in primo piano la questione vaccini, anche qui dobbiamo andare ovviamente a zoomare per favorire la lettura, allora Draghi, ferma AstraZeneca, no all'export di vaccini, il Premier utilizza per primo le recenti regole della comunità europea, vietata l'azienda la vendita di oltre 750 mila dosi dall'Australia, a maggio via libera allo Sputnik, ma l'Italia da sola non lo comprerà, somministrazioni intanto anche sui luoghi di lavoro, aumentano intanto purtroppo i contagi e la Lombardia chiude tutte le scuole, intanto il terremoto nel Partito Democratico con Zingaretti che si dimette e non torno indietro, lo sfogo del segretario, un processo ogni giorno e poi le conseguenze sul governo, ora si sposta il baricentro. Oggi inizia la visita a Papa Francesco, il rischio Iraq per cercare la pace con gli sciti. Andiamo a pagina 2 di Repubblica con appunto la notizia del giorno, da un punto di vista politico, ieri le dimissioni del segretario del Partito Democratico, Zingaretti che si dimette, basta attacchi, questa è la denuncia, il PD adesso resta in balia delle correnti. La mossa sorpresa del segretario dopo l'assedio degli ex Renziani che puntano a sostituirlo con Bonaccini, ma ora tutti gli chiedono di restare. Repubblica ricostruisce quella che è la mappa delle tante, troppe forse, correnti DEM, ci sono gli Zingarettiani, poi c'è la sinistra, l'area DEM, la sinistra radicale, gli amministratori, tra cui appunto Stefano Bonaccini, poi quelli denominati fianco a fianco, tra cui c'è anche Graziano del Rio. Poi c'è la base riformista di Lorenzo Oguerini e poi infine i giovani turchi di Matteo Orfini. Andiamo a pagina 3 con le dichiarazioni di Zingaretti, il leader era evidentemente ferito perché dice non torno indietro, è l'unico modo per chiarirsi e l'accusa è davvero pesante. Torniamo un attimo indietro perché dice Zingaretti qui funziona solo il fratricidio, la decisione sofferta ma non improvvisata, non mi ritiro dalla politica, dice io candidato al congresso non esiste. Pinotti in poll come reggente e le dimissioni di Zingaretti hanno raccolto anche l'ironia di Fiorello dal palco di Sanremo. Dice Fiorello a Zingaretti posso darti un consiglio, le opzioni sono due, o ti candidi a sindaco di Roma o vai a fare l'opinionista dalla D'Urso. Da Sanremo Fiorello ironizza così sull'addio del segretario del PD riferendosi alle polemiche sollevate recentemente da un tweet del leader sulla conduttrice TV. Torniamo in Puglia con la Repubblica di Bari, il vaccino fatto agli amici e il PD chiama la procura. Sono mille le posizioni che i carabinieri del Nasse in servizio ispettivo della regione devono esaminare, sospetti superenti dei medici, la carola, la magistratura, indaghi. Ci sono troppi ventenni negli elenchi e non studiano medicina, ne parla Chiara Spagnolo. Si parla anche di commercio, affitto d'oro, se ne va Hermes e poi noi andiamo a questo punto a vedere la prima pagina dello Ionio, il periodico di informazione del gruppo editoriale Distante, questa prima pagina, questa copertina con i giganti del mare perché si parla di navi da crociera per scoprire le nostre meraviglie. Qui c'è il sommario, c'è uno speciale sull'antica chiesa di Santa Maria. del Gareso, ne parla all'interno Daniele Pisani, ma si parla anche di giustizia, di investimenti, di sport e anche di cultura, con la rubrica sempre interessante dei libri della settimana. Chiudiamo con il Corriere dello Sport Stadio, questa è la prima pagina nazionale con in primo piano l'Inter, sarà felice il nostro Michele Marchidelli in regia, provate a prendermi, una doppietta di Sanchez a Parma 2 a 1, lancia Conte a più 6 sul Milan per l'Inter, sesta vittoria di fila e il lunedì il big match con l'Atalanta. Nel frattempo guardate questa voto Zlatan in ritardo per un incidente, ibra in moto al festival che duetto con Sinisa. Ma tornando all'Inter, prima in classifica, in fuga, tutto nella ripresa con il cileno Sanchez che realizza due reti su assist di Lukaku, poi il gol di Hernani, il tecnico, sono democratico, non regalo nulla a nessuno, così Antonio Conte. Andiamo a vedere anche la prima pagina, velocemente, il Corriere dello Sport Stadio della Puglia, Bari può chiamarlo Mister Doppietta, questo è il titolo dedicato al Bari, quella di due giorni fa contro la Juve Stabile, terza dall'inizio della stagione per l'esterno di Carrera e poi domenica contro la Reggiana per tornare alla vittoria si vada di Lecce con Corini che punta al 30, l'obiettivo di punti nelle ultime 12 giornate per la Serie A. Noi ritorniamo in postazione, lo facciamo a questo punto per ringraziarvi per la cortesa attenzione, chiudiamo così la nostra rassegna stampa e quindi mi resta che augurarvi un buon proseguimento.